Oggi 23 maggio 2022 sono venuta qui a Palermo alla chiesa di San Domenico a rendere omaggio alla tomba di Giovanni Falcone nel ricordo anche della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Uomini che hanno dato la vita per un ideale nella lotta alla mafia e nella lotta per una Palermo diversa, una Sicilia libera dall'illegalità. Ho preferito venire qui oggi con i miei candidati della lista Rinascita Palermo lontano dalle celebrazioni ufficiali per un momento di raccoglimento e di preghiera. Spero davvero che la memoria di queste persone, in primis di Giovanni Falcone ma anche di tutti coloro che insieme a lui hanno dato la vita per dei valori assolutamente straordinari e importanti, rimanga nel cuore di tutti noi ed ispiri le nostre azioni future e la nostra condotta.